La terrazza della curva dei picchi, Fabio Pinchi e Tommaso Biondi a riscaldamento per la telecronaca diretta della finale di Riva e Foretti. Gori è primo, Gori è primo, domenici secondo, terzo Damiani c'è ultimo di Burzi. Gori è primo, Maldi, Gori è uno, è uno, è una sfida vincente, sono affogliati, sono vicinissimi, il 64 passa per primo, recupera il numero 14, che si infila verso il riguardo finale a seguire gli altri, lì all'attivo.